Monitorare i lavori all'aeroporto e investire su una rete di scali aeroportuali, il Costa d'Amalfi di Salerno può decongestionare scali più grandi e dare grandi soddisfazioni ad un territorio che vive anche di turismo. E' quanto ha dichiarato il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri, giunto questa mattina all'aeroporto di Ponte Cagnano per una visita utile a fare un punto sul piano di rilancio dell'aeroporto dopo la firma sul decreto di concessione per il via libera al progetto di integrazione dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi con l'aeroporto di Napoli, con il Vice Ministro Cancelleri, i senatori Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Agostino Santillo, Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. Nel corso della visita il Vice Ministro ha indossato anche i panni del viaggiatore, valicando l'ingresso per raggiungere la pista. Bisogna passare ai fatti a detto stimolato dai rappresentanti territoriali. Non si lascia indietro niente, questo è uno dei tanti aeroporti che fanno parte di una serie di infrastrutture in Italia che compongono uno stile di rete aeroportuale che deve servire anche a decongestionare quelli più grandi che invece già sono arrivati a numeri importanti ma che non riescono più a gestire quei flussi. Dovremmo allargare a dismisura i aeroporti esistenti oggi, penso a quello di Catania come penso a quello di Napoli, come penso a tanti altri ed è chiaramente sono discorsi che probabilmente possiamo fare fra anni. Invece oggi noi qui abbiamo infrastrutture già esistenti che possono essere utilizzate appunto per decongestionare. Quindi è importante oggi la presenza qui per suggellare che l'impegno al di là del cambio di passo di governo comunque continua. Abbiamo continuato a lavorare in questo anno di governo Conte 2 e dobbiamo continuare ancora di più. Quindi se ci sono degli ulteriori interventi adesso da fare sia dal punto di vista normativo che anche dal punto di vista economico siamo pronti oggi a farci raccontare quello che si sta facendo qui e per poi ritornare a Roma e prendere insomma le nostre dovute decisioni. Questo è un aeroporto che ha scommesso spesso sul decollo per il quale sono stati spesi i soldi. Da anni questo territorio attende una vera ripartenza che fino ad oggi non c'è stata. Sono tanti i territori e gli aeroporti che purtroppo hanno scommesso negli anni da parte di certa politica che però ha semplicemente parlato. Noi dobbiamo passare i fatti quindi davvero poche chiacchiere. Io oggi sono voluto venire qui stimolato dalla rappresentanza territoriale per venire a vedere quelle che erano le reali condizioni e lo stato dell'arte della struttura. Dopodiché dobbiamo agire. I fatti racconteranno se questo governo sta agendo bene o meno. Siccome ci sono anche importanti fondi che adesso arrivano dall'Europa, chi lo sa, anche la rete infrastrutturale che riguarda gli aeroporti in Italia, sarà oggetto appunto di investimenti perché è anche lì che si gioca la partita non solo per realizzare lavori che già crea di per sé posti di lavoro ma soprattutto per realizzare quell'opportunità sui territori che poi a sua volta generano benessere e posti di lavoro. Quindi siamo proprio a lavoro costantemente proprio perché c'è una visione di paese e c'è una visione di sistema aeroportuale che non si basa soltanto sui grandi ma che vuole anche agevolare i piccoli aeroporti e quindi anche le piccole realtà per farle sviluppare ulteriormente. Se la immagina è una data da scrivere su un foglio per ripartire da quest'aeroporto? Sarebbe diciamo poco serio e comunque tanto io me ne andrei e quindi vi lascerei con una data scritta su un foglio. Diciamo in questo modo che la data diciamo più seria che posso darvi è già la prossima settimana per cominciare davvero a lavorare presa la visione oggi e capire quali sono gli impegni da prendere. Già la prossima settimana cominciare a concordare un tavolo non solo con le autorità dell'aeroporto ma anche con il ministro per riuscire a capire quali sono le reali possibilità e quindi lo sviluppo che dobbiamo dare a questo aeroporto. Io parlerei di un sistema di piccoli aeroporti in giro per l'Italia che secondo me è anche più serio da affrontare perché dobbiamo affrontare tutta la rete insieme e la dobbiamo sviluppare tutte insieme. Questo è secondo me il modo più serio per affrontare la questione. Dopodiché una volta che avremo fatto il quadro avrò il piacere di rivenire qui e darvi davvero la data della ripartenza dell'aeroporto perché lì noi ci puntiamo assolutamente a questo. Al di là poi degli investimenti e delle cose che si devono fare è chiaro che l'aeroporto deve cominciare di nuovo a funzionare quindi deve essere il volano per il territorio.